Il Vasto Girardi ha la ricerca di continuità. Dopo aver centrato lo scorso fine settimana il primo successo della stagione, i gialloblu tenteranno il tutto per tutto contro la nobile decaduta sanbenedettese. Domani al Di Tella si preannuncia una vera e propria giornata di sport, una partita che per la storia del club ospite si prospetta già meravigliosa. Con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, il Vasto Girardi si è detto onorato ed orgoglioso di accogliere sul proprio umile campo di gioco una società storica e blasonata come la sanbenedettese. Dopo essere stata ammessa in serie D, la stagione della Samba non è di certo iniziata nel migliore dei modi. Ci si aspettava un debutto differente, la squadra al contrario, nelle prime quattro uscite ha rimediato altrettante sconfitte. I marchigiani sono in serie positiva da due turni, così come il Vasto Girardi. Entrambe non lasceranno nulla al caso e scenderanno in campo con la voglia di conquistare punti per abbandonare la zona calda della classifica. Il successo a Tolentino di sette giorni fa non solo ha regalato tre punti importantissimi agli altomolisani, ma è stato fondamentale per l'umore dell'intero gruppo, che in settimana ha potuto lavorare serenamente e con determinazione. L'obiettivo della squadra è quello di regalare la prima importante soddisfazione della stagione. Mister Prosperi, che intanto è stato fermato per due turni dal giudice sportivo, potrà contare su tutti i suoi uomini. L'undici titolare non dovrebbe subire modifiche. In Porta di Stasio, difesa composta da Montuori, Stranieri, Ruggeri e Secondo, al centro del campo Guadalupi, Minchillo e Acunzo, in avanti a Metai, Guida ed Alagia. Potranno essere solamente 38 i tifosi marchigiani, è quanto ha stabilito il prefetto di Sernia in considerazione della capienza dello stadio secondo l'attuale normativa anti-Covid. Con fischio d'inizio anticipato alle 14.30, Alditella, Vasto Girardi, San Benedettese, sarà diretta dal signor Felipe Salvatore Viapiana della sezione di Catanzaro, assistenti Fabrizio Cozza e Lucio Salvatore Mascali, entrambi di Paola. Mercoledì prossimo sono in programma i 32esimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Le gare sono di sola andata ed in caso di parità, al termine dei 90 minuti, saranno i rigori e a sancire la squadra vincente. La Samb se la vedrà con il Porto d'Ascoli. Il Vasto Girardi viaggerà alla volta di Castelnuovo-Vomano. Fischio d'inizio fissato alle ore 14.30. Il Vasto Girardi viaggerà alla volta di Castelnuovo-Vomano.